PEGI 16 SEGA Total War è ancora lo stato dell'arte dei giochi di strategia grazie a battaglie 3D in tempo reale e a una struttura di gioco a turni durante la campagna Dopo aver fatto assumere ai giocatori il comando durante l'ascesa di Roma l'età della cavalleria la rivoluzione americana e le guerre di Napoleone Total War tornerà alle sue radici la struttura di gioco di Total War si articola in due fasi distinte la fase di costruzione e gestione di terra e forze avviene sulla mappa della campagna mentre nelle battaglie 3D in tempo reale prenderà il controllo degli eserciti in Shogun 2 Total War il Giappone è lacerato da un crudele conflitto i signori della guerra sono in lotta per conquistare la nazione il motore grafico di Creative Assembly recrea le epiche battaglie dell'epoca con una ricchezza di dettagli incredibile Schiera i tuoi eserciti in modo da massimizzarne la potenza e l'efficacia affronterà il nemico in tempo reale usa le tue unità e le loro abilità speciali per trionfare dovrai adattare le tue strategie a seconda del campo di battaglia gli assedi sono un tipo di sfida diverso rispetto alle battaglie campali in mare dovrai studiare il vento e le onde prima di impegnare la tua flotta Shogun 2 è basato su l'arte della guerra del grande stratega militare cinese Sun Tzu nel suo capolavoro Sun Tzu illustra i principi della vittoria distinguere quando combattere e quando no stabilire quando e dove usare forze minori o maggiori far sì che ufficiali e soldati combattano uniti avere un generale capace e senza vincoli ed essere sempre preparati questi cinque punti individuano la strada della vittoria l'abilità militare suprema risiede nel cercare la vittoria attraverso circostanze mutevoli solo la padronanza totale dei principi di Sun Tzu ti farà diventare Shogun, il sovrano di tutto il Giappone votano di κάνelo nazistvale agga una dmmm altru 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 altra altru 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 Grazie.